Musica Cari telespettatori benvenuti a questo speciale approfondimento che oggi dedicheremo alla fiera di San Michele Arcangelo un evento che si terrà il prossimo fine settimana a Piana di Talacchio nel comune di Vallefoglia allora do subito il benvenuto al primo cittadino Palmiro Chielli benvenuto Sindaco Grazie, grazie Dunque questa fiera che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 è dedicata all'agricoltura, ai prodotti tipici locali ma non solo in realtà è una fiera antica soltanto che è stata ripresa lo scorso anno per cui siamo alla seconda edizione Sì, è stata diciamo riproposta in una versione molto diversa è stata una fiera locale, era bottega di Vallefoglia dando un carattere diciamo di fiera anche internazionale saranno presenti anche le delegazioni gemellate con noi della Lettonia e dell'Istria ed è una fiera della genialità della vallata del territorio a nord delle Marche della vallata da Pizzo a Velfort a Lisauro che è una vallata di circa 180 mila abitanti di cui Vallefoglia è un punto di riferimento importante quindi non è una fiera, è organizzata la città di Vallefoglia ma è una fiera che ha l'ambizione di diventare una grande fiera che ha un carattere così come è il sistema produttivo di quella vallata ma anche della vallata del Metauro e che diciamo consente di esporre le genialità, le attività economiche produttive di questo territorio, di quella vallata, di queste vallate e che diciamo consente di stare dentro la competizione internazionale nasce dall'idea, dalla storia di queste vallate, di quella vallata ma anche della vallata del Metauro che diciamo l'agricoltura è l'anno internazionale del cibo, dell'alimentazione, del gusto infatti saranno diversi stand, oltre da cinquantina di stand di macchine per l'agricoltura di imprese diciamo specializzate anche nei settori dell'economia che è fortemente diversificata l'economia di quella vallata che va dall'agricoltura che mantiene un ruolo importante ma va anche dai settori come la refrigerazione, la lavorazione del vetro quindi un incontro di varie eccellenze locali sì, è una fiera all'aperto fine maggio 25, 26, 27 ma soprattutto sabato e domenica 26, 27 che consente se uno ha un po' di idee, se ha dei prodotti validi di esporli, di farli conoscere, di venderli e quindi ci sarà anche un ristorante importante proprio Fanese che è la Perla che consentirà di gustare il pesce, ci saranno diversi ristoranti diciamo anche della carne tradizionale delle aziende agricole del nostro territorio e poi ci sarà musica, ci sarà tanta possibilità per le famiglie soprattutto per i bambini, i giochi, c'è un bel programma Ecco, poi dopo fra poco entreremo nel dettaglio del programma intanto partiamo da questa collaborazione che diceva lei, non è organizzato l'evento soltanto dal comune ma da diversi enti, associazioni, pro loco, c'è anche una collaborazione con i vari istituti scolastici del territorio Sì, noi presenteremo formalmente martedì prossimo in una posa di conferenza stampa ma insieme alla regione, sarà presente il consigliere regionale Biancani, insieme per conto del Presidente, della Giunta insieme alla Camera di Commercio, insieme alla provincia, infatti la conferenza terremo nella sala della Giunta provinciale insieme alla Camera di Commercio, a questa scuola agraria che è Caprile, insieme al Genga Bramante e soprattutto insieme a tanti produttori locali che sono un po' l'ossatura fondamentale in un'area che è stata fortemente collaudata oramai con il drifting, quelle delle macchine di traverso dove sono passate migliaia, 10, 15, 20 mila persone, non so quante persone perché è un'area immensa dove c'è un parcheggio enorme e dove si presta benissimo tra l'altro lì c'è una mensa con gli spazi, con una location diciamo anche di alberature tutta di proprietà del Comune e quindi si presta bene per una fiera che ovviamente crescerà nel tempo le città dell'Istria di Gnano che a circa 20 chilometri da Pola hanno una fiera soprattutto sull'olio saranno presenti con uno stand dell'olio, il vino loro e una fiera che dura da 20-30 anni è una bellissima fiera ma anche la città gemellata di Valmiera che è vicino a Riga circa 80 chilometri da Riga, città di 35-40 mila abitanti che hanno una fiera analoga di un territorio di circa 200 mila persone e anche loro hanno una fiera che dura da 20-30 anni questa è all'inizio, io sono convinto, noi siamo molto convinti che diventerà una grande fiera e avrà un carattere anche internazionale perché le industrie leader anche di quella e di questa vallata ma del nord delle marche e delle marche in generale sono industrie, per esempio cito una solo diciamo dell'industria leader che ha quasi mille dipendenti che arriva Gold che ha una dimensione internazionale, ha rapporti non solo in Europa ma in gran parte dei paesi del mondo una fiera che può soltanto crescere e migliorarsi poi nel tempo ma noi pensiamo di sì perché con la chiusura del quantiere fierisco di Campanara che era partito quel quantiere fieristico con la fiera del mobile il mobile si è tenuto proprio questi giorni, diciamo Federlegno è una iniziativa nazionale del settore del legno a Pesaro e anche in quel territorio quella era ed è ancora perché le aziende del mobile non sono calate, sono cresciute in quel territorio le fabbriche storiche di quella vallata erano Villa Fastigi, i grandi mobiliari i mobilieri di questa vallata e quindi dare la possibilità a tutti i settori di un'economia fortemente diversificata di esporre le loro peculiarità Quindi una bella vetrina sicuramente per molti produttori della zona Noi abbiamo insieme ad un'azienda di Fano, quindi abbiamo molti legami con Fano come si vede un portale che è un portale che consente, credo 50-60 aziende già siano dentro questo portale se uno viaggia su Valle Foglia, sulla vallata, vede diciamo alla città di Valle Foglia la Valle del Fare, della laboriosità, making valley, far rappresando con le valli più progredite degli Stati Uniti d'America perché questo è un territorio, ma la vallata È improduttivo insomma, sindaco Sono due vallate che si assomigliano bene, quella del Foglia e quella del Metavro dove c'è una grande vivacità e noi vogliamo incentivarle e valorizzarle Cominciamo a parlare del programma, partiamo ovviamente da venerdì 25 maggio si partirà alle 17.30 con un convegno, di che cosa si parlerà? Si parlerà delle tipicità, del tipo di grano e delle quantità, delle diversità e delle diversificazioni dei tipi di grano che si possono produrre, tra l'altro sono alcuni dei relatori anche fanesi Esatto, sì, vediamo anche Francesco Turiani Ci saranno anche i saluti, diciamo, delle due delegazioni gemellate con la città di Valle Foglia a cui ho fatto già riferimento e quella è l'apertura della fiera poi alla sera c'è la degustazione a Montelippo che è un ristorante tipico della città di Valle Foglia verso Urbino e quindi sarà una conviviale, no? E poi la mattina, il sabato mattina Alle 9 si riparte, insomma, con l'area da fiera Sì, si riparte con l'area da fiera perché il venerdì sera c'è solo questo momento di riflessione sul tipo di grani che si possono mettere innovando anche rispetto alle tradizioni di questo territorio e il sabato mattina c'è l'altario del nastro poi ci sarà un confronto, diciamo, sulla infrastruttura viaria di quella vallata Quindi viabilità e infrastrutture? Sì, c'è un passaggio della viabilità mentre, diciamo, la Fano Grussetto è tutta dello Stato Quella vallata era la Fogliense e la Montalabatese che è la principale arteria infrastruttura a supporto dell'economia era tutta della provincia e diventata dello Stato vorremmo spiegare cosa cambia per l'economia di quella vallata come si trova un nuovo equilibrio tra la vallata del Metauro e la vallata del Foglia grazie a due strade statali Non soltanto momenti culturali e di riflessione perché ci saranno anche invece delle attività ludiche alle 9.30 ci sarà un gioco, il gioco dell'occa Il gioco dell'occa perché l'obiettivo nostro è coinvolgere le famiglie, coinvolgere i bambini far conoscere le vecchie tradizioni, la vecchia cultura che c'è in quel territorio Tramandarla un po' anche ai giovani in questo senso Ma certamente, però vogliamo anche spiegare l'importanza di quella infrastruttura per un ulteriore sviluppo dell'economia della vallata Assolutamente, fondamentale E poi le 16.30 ci saranno anche qui delle conversazioni nel giardino avete intitolato così questo evento quindi si parlerà anche di longevità attiva Ma noi pensiamo un po' le Marche, è una regione, la nostra provincia ma anche in quel territorio noi facciamo tutti gli anni non la festa dei vecchi o degli anziani, la chiamiamo la festa dei grandi e circa 5-600 persone, oltre a 90 anni che hanno avuto la fortuna di vivere così a lungo spiegano anche quali sono le ragioni, le modalità attraverso le quali hanno potuto vivere così a lungo e quindi ragioniamo anche di quello della longevità attiva e poi diciamo il giorno successivo avremo modo di ragionare su il fiume Foglia l'acqua come una risorsa strategica non solo per l'agricoltura ma per il sistema produttivo di quella vallata e la qualità dell'acqua perché quel fiume finisce nella città di Peso in quel di Soria Quindi un contratto di fiume lo avete definito Un contratto di fiume perché sono previsti due depuratori uno già i lavori in corso per 5 milioni di euro di investimenti quindi ambiente, qualità dell'acqua per fare in modo che il Foglia che essendo una vallata fortemente industrializzata non è certamente i fiumi che ho visti in Cina che sono una quantità di inquinamento ma che ha bisogno comunque degli interventi e quindi la qualità del fiume la mobilità pedonale ciclabile lungo l'asta fluviale recupera tutti i beni culturali storici che sono un po' la nostra storia e le nostre radici che vuol dire occupazione perché la viabilità e diversi milioni di investimenti il contratto di fiume abbiamo attivato un tavolo per il lavoro la formazione e l'occupazione per utilizzare a meglio i fondi che la comunità europea mette a disposizione l'unione europea e che ci consente di rendere più competitivo il sistema produttivo di quella vallata la valle del fare vuol dire far fare un salto di qualità anche nel ricambio generazionale con giovani formandoli formando i giovani manager nella competizione internazionale perché con il ricambio generazionale la metà delle aziende sono fallite esatto e questo si svolgerà a mulino di Pontevecchio da specificare che per tutti questi convegni ovviamente saranno presenti non soltanto delle figure istituzionali ma anche proprio degli esperti del settore quindi sarà un confronto aperto e anche aperto alla cittadinanza sarà un confronto aperto interessante in luoghi anche diversi non tutto si realizzerà dentro l'area della fiera perché la prima iniziativa si fa alla Blu Arena Montecchio e la seconda iniziativa si fa invece nella fiera nella mensa nel cuore della fiera la terza iniziativa si fa in un bellissimo straordinario mulino recuperato dove a breve ma non do troppo notizie perché se no inaugureremo una centrale di produzione di energia elettrica realizzata dal privato per oltre 2 milioni e mezzo di investimenti e subito dopo l'estate inaugureremo una mostra con tutti gli attrezzi del mestiere di quando questo territorio era totalmente agricolo per far capire come era fatto il mondo di una volta e dove si va a parare in futuro quindi ci sarà un museo della storia dei mulini della provincia di Pesubino oltre che della Vallata ci sarà la vecchia centrale di produzione di energia elettrica che dava, dicono quelli che fanno gli storici la corrente elettrica alla città di Pesero e ci sarà la nuova centrale e soprattutto ci sarà questo museo della civiltà quotidiana probabilmente metà entro il settembre quindi l'avete scelto un po' come simbolo questo mulino per l'incontro di domenica l'abbiamo scelto come simbolo perché è in crocivia anche di relazione con l'Emilia Romagna perché a tiro di schioppo da Pontevecchio non solo c'era la storia della banda grossi ho visto che l'ha fatto anche in film perché i briganti andavano dalla Vallata del Metaforo alla Vallata del Foglia alla Vallata dell'Apsa e i collegamenti che avevano con la Romagna perché a tiro di schioppo c'erano e c'è ci sono diversi mulini dell'olio e la nostra caratteristica è anche una caratteristica saranno diversi espositori anche compresi gli striani di un grande olio di qualità che ci caratterizza un po' come territorio della provincia un'altra eccellenza locale invece proseguiamo con le iniziative perché che bel barbiere di qualità è il titolo invece dell'appuntamento che si svolgerà alle 16.30 sempre della domenica di che cosa si tratta? si tratta di una genialità di uno stand del Comune di Pesaro la Sassonata della Cultura perché stiamo costruendo con Urbino ci siamo già incontrati con il sindaco di Urbino il vice sindaco di Pesaro a Sant'Angelo una chiesa di San Michele Arcangelo che è uno scrigno di bellezza e di valore storico tanti quadri bellissimi del Venanzi eccetera e diciamo stiamo costruendo un rapporto con Pesaro Urbino perché Vallefoglia è la città che ha dato i Natali a Giovanni Santi padre di Raffaello nei 500 anni dalla morte di Raffaello e per Ticari che fu il personaggio che insieme a Terenzo Mamiani filosofo, ministro del governo Cavour e dettano una grossa mano allora a realizzare 200 anni fa il teatro Rossini di Pesaro insomma c'è anche tanta storia da poter raccontare stiamo costruendo un protocollo di intesa che probabilmente firmeremo entro giugno in quella chiesa di San Michele Arcangelo quindi l'esposizione il barbiere cioè i barbieri locali parafrasando col barbiere di Siviglia e lo stand di Rossini e faranno la barba a tutti quelli che passeranno lì con la musica sottofondo il barbiere di Siviglia quindi a chiunque se avete bisogno di fare dei ritocchini a barbe baffi andrete nel posto giusto è diciamo una cosa anche geniale simpatica insomma un po' che caratterizza anche quel territorio seguirà un altro agriaperitivo e poi un saggio di alcuni ragazzi lì noi abbiamo costruito studio delegato ad una mia consigliera che è Alessandra Moscatelli le politiche giovanili un gruppo di giovani con l'idea di un forum dei giovani un capannone di idee che era un luogo simbolico dove si ragionava sul futuro del pianeta tra l'altro in quella zona nascerà un talent lab in un investimento privato c'è un luogo un laboratorio dove i giovani si riuniranno e parleranno come progettare il futuro di questo territorio di questo pianeta quindi ci sarà anche un'insativa di giove poi ci sarà anche tanta musica perché non è che quella fiera si chiuda alle 6 di sera la fiera va avanti anche la sera a tardanotte la notte con musica divertimento balli deve essere una cosa molto popolare e di vallata quindi come diceva anche poc'anzi ci sarà un ampio parcheggio facile da raggiungere anche per chi viene dalle nostre zone perché no 25, 26 e 27 questa seconda fiera si prospettano delle belle iniziative culturali ludiche come dicevamo e non solo e di tanta enogastronomia perché fondamentalmente anche quelli che vanno alle fiere anche quelli del nostro territorio e poi stanno insieme si divertono ballano portano le famiglie i bambini ci saranno tanti animali quindi anche i bambini che magari non sono come quelli di una volta quelli che vivono anche in città che non sono abituati a vedere gli animali della campagna non sono come i bambini di una volta che nascevano in mezzo ai boi in mezzo alle galline in mezzo agli animali e quindi ci saranno anche tante possibilità di portare i bambini in mezzo agli animali e vedere come erano un po' le storie molto variegate di quei territori e di quella vallata dunque Piana di Talacchio nel comune di Vallefoglia vi aspetta per la seconda fiera di San Michele Arcangelo il 25, 26 e 27 maggio Sindaco grazie per essere stato con noi grazie a voi e grazie ai telescoltatori grazie appunto ai nostri telespettatori di Fano TV per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti